buonasera dal vostro colonnello carrozzelli e vediamo oggi che aria tira sulla nostra penisola cominciamo dalla situazione generale una perturbazione di origine pacifica e ma poi burrascosa e presente sulle regioni meridionali vediamo in dettaglio con l'ausilio del maresciallo carrozzelli buonasera grazie vediamo subito le immagini attraverso il nostro caro su sale se la regia gentilmente ci manda in onda le immagini dovremmo vedere il nostro satelmo e le zone di maggiore perturbazione sono indicate sulla nostra cartina la situazione del tempo al nord sereno sereno con riciclaggio stabile notte tempo e al primo mattino branchi di nebbia dense alle frontiere certo quindi si può anche fare una certa attività di import export perché vuole anche organizzarsi un attimino una notizia molto importante molto importante poiché neve è prevista a catania è prevista neve in catania in particolare al porto in particolare dovrebbe arrivare intorno alle 22 e 30 22 e 31 ma questo mi sembra banchina numero 4 organizzarsi per questo straordinario evento la situazione dei venti ai venti sono eventi soffiate da moderate a forti in calabria e che inevitabilmente si svilupperanno in raffiche come si può vedere dal nostro segnale prego la regia ecco qui raffiche inevitabile la situazione dei mari milano e torino calmo come al solito attenzione che la capitaneria del porto ci avverte di fare attenzione alle retate al largo del golfo di napoli poiché queste non sono segnalate non sono segnalate bene amici questa è la situazione del tempo che aria tira oggi quindi io direi occhio e arrivederci